Eccoci di nuovo insieme, guardate che belli che sono questi nanetti. Vi ho parlato di un grande nome italiano che ha portato il nome dell'Italia e tutta l'Italia all'estero da tantissimo tempo, un grande nome della moda e non solo, ed è arrivato a trovarci Elio Fiorucci. Elio grazie di essere qui, sei sempre straordinario, un grande amico perché io credo di averti avuto in tutti i miei salotti, da tutte le parti, quindi sono felicissima che tu magari mi porti fortuna anche in questo. Grazie. Elio veramente sei stato il primo grande nome italiano a sbarcare in America e a far conoscere praticamente la nostra fantasia, la nostra bravura, i nostri colori, la tua moda. Sì, io quando sono sbarcato a New York con il primo negozio, eravamo nel 1977, tu pensa che a New York c'era solo Ferragamo e Gucci, che erano due fantastici negozi, maestri, però erano comunque accessori, cioè però solo accessori, non tutto il concetto della moda. Poi c'erano i nostri stilisti che forse avevano dei clienti nei grandi magazzini, però ancora non c'erano i grandi negozi dei grandi stilisti italiani che ci sono adesso. Adesso è pieno, adesso l'America è piena. Se tu vai in Madison, se vai in certe strade, alla fine, voglio dire, sembra di essere in Italia, cioè tutti italiani, e devo dire che la moda italiana è amatissima, è amatissima e è considerata, diciamo, meglio di qualunque altro. Anche perché guardiamo le grandi star hollywoodiane quando vanno nella notte delle Oscar, io credo che ormai quasi tutte vogliono vestire con stilisti italiani. Questo è il grande patrimonio dell'Italia, non ci rendiamo conto, ma è il giacimento vero di ricchezza e la creatività italiana. Come le sorelle Fontana. Brava, dall'origine le sorelle Fontana, ma voglio dire, poi negli anni 80, fine 70-80, la nascita di tutto questo pret-à-porter, perché oggi parliamo di pret-à-porter, cioè non parliamo più di alta moda. Il pret-à-porter è portato da tutti, da tutte le donne più eleganti del mondo, ed è il modo di vestire, ma è il modo di vestire italiano, il modello di comportamento è quello italiano. Senti Elio, il primo... Scusami Marisa, il tuo primissimo negozio, se non ero, l'hai aperto nel 67. Brava, 67. E raccoglieva un po' tutto quello che veniva, sia da Londra sia dall'America. Bravissima, bravissima. E tu hai sempre combinato le cose insieme. Infatti, infatti, diciamo, è nato nel 67, dopo un mio viaggio che avevo fatto nel 65 a Londra, che era andato a trovare mia sorella a Londra, che viveva a Londra, e niente, sono tornato, avevo visto il negozio di Biba, che è un negozio famosissimo, è stato uno dei più bei negozi al mondo, e ho visto Mary Quent, che l'avevo visto... Cioè, là era nata la moda giovane. La moda giovane, quindi colorata, particolare. Carnaby Street era la strada più bella, più fantasiosa, perché, voglio dire, la strada dei giovani, e c'era tutto questo movimento della musica, tu immagini, era l'epoca dei Beatles, per cui io sono rimasto completamente affascinato, completamente colpito, sono tornato in Italia, e ho detto, devo fare un negozio... E hai sconvolto. Ecco, e ho avuto la fortuna di fare un negozio nel centro di Milano, in San Babila, e ho voluto che non fosse disegnato da un architetto, ma da una scultrice, che è Amalia del Ponte, e ho detto, guarda Amalia, facciamo una scatola bianca dove si possa mettere dentro tutto, si possono mettere i vestiti, la musica, gli oggetti, ed è diventato un contenitore, un contenitore di novità, un contenitore di musica, i libri, vendivamo i libri, vendivamo più libri di noi di una libreria. Io mi ricordo che una volta, tanti anni fa, sono andata in un'occasione, ma tanti anni fa, e ho visto la fila, ho detto, ma perché c'è questa fila? E alla fine ho scoperto che era il suo negozio, perché lì veramente potevi trovare qualsiasi cosa. Tutte le emozioni possibili. No, perché alla fine le ragazze venivano scelte da noi, le più belle ragazze di Milano volevano venire a lavorare da noi. Era l'epoca anche delle minigonne, aggiungiamo, per cui voglio dire... E che minigonne, è straordinario, è vero? E alla fine c'era questa scala centrale, e con la musica, sembrava di essere in un musical. Poi racconto sempre che il giorno dell'inaugurazione, la sera dell'inaugurazione, è arrivato a Diano Celentano, questa è famosissima, perché è arrivato a Diano Celentano su una Cadillac rosa, con tutto il suo clan. Sembrava di assistere a un film, a un film di questi film musicali americani, scendono tutti, saltano tutti dalla macchina, entrano nel negozio. Sì, diciamo che Milano ha vissuto in quel periodo una cosa, diciamo, assolutamente bella, assolutamente allegra, che rompeva un po' quel clima, diciamo, di città tranquilla, di città... Che è stata subito apprezzata oppure ha avuto anche un po' di critiche? No, c'è stato un momento, però sono stato fortunato perché il direttore di Panorama, l'inventore di Panorama, che è stato Secchi, poverino, è mancato poco tempo fa, io ho scritto anche una cosa per lui, perché lui ha chiamato Mirian Decesco, che era la caporedattrice, e gli ha detto, guarda, ho visto il negozio di Fiorucci a Insambabila, dobbiamo fare assolutamente un servizio. In effetti Mirian Decesco è venuta e ha fatto questo servizio, 4-5 pagine, raccontando questo negozio, fotografando la gente che c'era, gli oggetti che c'erano, e da lì è partita la nostra fortuna, cioè perché da quel momento Panorama era il giornale, il giornale di costume, l'unico, il bel giornale moderno che aveva l'Italia, perché allora non esisteva l'Espresso, l'Espresso era una specie di giornalone che sembrava il Corriere della Sera, un giornale a grandi pagine, ed era di vocazione radicale, diciamo. Invece Panorama era nato come un giornale di costume, per cui parlava di tutto, parlava come adesso, per cui essere su Panorama, con 4-5 pagine, con tutte le fotografie, per noi è stato... Beh, non è da tutti, è vero. Io quello sono stato fortunato, e sono stato fortunato anche a New York, perché quando ho aperto il negozio a New York, dopo pochissimo tempo, passa di lì Andy War... Casualmente, infatti guardate, ero lì che stavo per domandartelo, ci sei arrivato da solo, e c'è stato questo incontro. Ma non era casualmente, perché alla fine, forse, perché era amico di Mary Paul, e alla fine, tutti parlavano di questo negozio che avevamo aperto. Anzi, posso prenderlo mentre Elio parla? Sì, il libro. Perché Mary Paul ti ha accompagnato, e ci ha dato questo libro... Sì, mi ha accompagnato qui. ...meraviglioso. E questo è il libro che è stato pubblicato. Guardate che meraviglia. È capocetoso. E lei, questo è il racconto della sua vita? Eccolo, guarda. Ecco qua. Andy, eccolo qua, non so se si vede, ecco da quella telecamera. Andy Warhol nel negozio nostro, con tutti noi. Voglio dire, ecco, questo era il negozio di New York, era l'uncentro di giorno, tutta la gente così curiosa, gli artisti così, venivano a vedere il negozio, perché si trovavano, si incontravano. Poi noi offrivamo il caffè gratis a tutti. I tuoi negozi sono comunque un punto di incontro, non è il negozio dove entri, compri e se ne vai. Io ho sempre detto che il negozio deve essere una specie di casa, chi viene deve sentire sia proprio agio. Per cui anche le persone, noi avevamo le commesse, commesse, che erano tutti poi degli artisti, dalla sera andavano a lavorare nei teatri, per cui voglio dire, c'era un clima assolutamente fantastico. Sì, sì, io l'ho vissuto, perché come ripeto, ero veramente una grande frequentatrice del suo negozio, proprio in San Babila, proprio quello in San Babila. Tanti, tanti anni fa? Dai, non parliamo di queste cose, Patrizia, per favore. Dai, ma mi devo stuzzicare un pochino. Lo dicono anche a me, quando è che ci andavi? Nell'uno quando non c'era nessuno? Mi prendo in giro. Anche perché ormai ho superato l'anta e posso essere orgogliosa di avere gli stessi anni di Madonna che tu hai conosciuto. Non sono Madonna, purtroppo, però. Stai benissimo, non lamentarti. No, no, non mi lamento. Guardate che bella questa, guardate. Ecco, questa è la foto della festa che abbiamo fatto con Madonna, appunto, allo studio del 54, dove... Perché Elio ha conosciuto Madonna quando non era la grande e famosa star di adesso. No, infatti, quando incominciava. E questa foto qui è la foto dove noi festeggiamo, noi siamo nati, abbiamo detto, nel 67 a Milano, e qui siamo nell'83, avevamo 15 anni. Allora, Mary Paul, quando io gli ho detto, festeggiamo i 15 anni di Fiorucci, facciamo qualcosa, lei mi ha detto, guarda, facciamo cantare Madonna, che è questa mia amica che incominciava a cantare, che però è un genio, e a un certo punto organizziamo una cosa, una festa allo studio del 54. Questi erano i vestiti, vedi, che formano la dicitura Fiorucci, perché queste erano le ballerine. Per cui era tutto un gioco di... Io volevo dire una cosa. Sì. Perché fate sempre i vestiti per le magre? Ah no, questo è un discorso che volevo... Mi deve rispondere. Dunque, allora adesso le do una buona notizia. Ecco. Le do una buona notizia. C'è una mia amica che sta studiando una linea proprio per le signore un po'... Perché noi siamo mediterranei. Un po' più tondette, insomma. Un po' tondette, un po' tondette, giocando solamente, non sulla forma dei vestiti come si fa sempre, ma sui colori. Cioè, per esempio, come fanno i pittori, che fanno una striscia, per esempio, tu immaginati con un tubino nero e poi però hai sopra una cosa arancio o una cosa rosa. Esplice. Sembri, sembri un... Capisci? Bisogna... Bella questa. Con dei trucchi, come fanno i pittori di far apparire le cose di dimensione diversa solamente giocandosi i colori.